Il Corecom ha ottenuto ottimi risultati nel 2016, li possiamo illustrare? Sì, un anno record per il Corecom ancora una volta, 5.600 famiglie e imprese si sono rivolti presso i nostri uffici con un problema e sono usciti con la soluzione e oltre 3 milioni di euro di indennizio, una struttura ormai efficace che funziona, che dà risposte concrete, che accoglie anche, lo possiamo dire, sotto il profilo psicologico il cittadino che ha un problema con la telefonia, con la DSL, con la Pay Per View, funziona bene grazie a una struttura, ripeto, efficiente che ha saputo anche rinnovarsi attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, andando incontro ai cittadini con gli sportelli sul territorio, facendo un'operazione di comunicazione fondamentale. Siamo i primi in Italia per numero di conciliazioni rispetto agli abitanti, per numero di indennizi e per buon esito delle conciliazioni. Penso che sia un orgoglio per l'Abruzzo e per la pubblica amministrazione che può funzionare se ci si lavora con serietà e passione. Vogliamo ricordare come fare per rivolgersi al Corecom? L'istanza è tutta online, www.corecomabruzzo.it, la procedura è snella, è facile, è semplice e anche veloce, e quindi attraverso un modello prestampato ci si può rivolgere. Poi si può fare in audioconferenza, in videoconferenza o si può vedere nei nostri uffici, che sono all'Aquila ovviamente quelle principali, a Pescara, a Teramo e presto anche in altre sedi.